Continua a discutere dell'ospedale, qual è il sito più opportuno? Il sindaco Bitonci ha ribadito che l'ospedale di Padova deve essere fatto a Padova, invece dalla regione tipo Zorzato ha dichiarato che l'ospedale che si cerca un altro luogo, Saunara, potrebbe essere una proposta. Guardi, noi attendiamo un'indicazione più precisa da parte della regione e non compete all'Università di Padova il discorso della localizzazione. Certamente se dal comune di Padova viene reso impossibile edificare il nuovo ospedale, perché di un ospedale completamente nuovo vi è assoluto bisogno, lo faremo fuori Padova, in un comune con termine, che dovrà dare però garanzie sufficienti di accessibilità, di vicinanza a Padova, di ampia possibilità di parcheggi e della possibilità quindi di creare una struttura completamente nuova in un luogo adeguato. Attendiamo le indicazioni della regione e attendiamo anche il confronto con le altre istituzioni.